Curva del casino, vittiamo al... Scusate, ma perché non stai al tuo posto? Zenna Tambe Mantel Scusate, ma c'è sempre battaglia per riuscire a conservare la propria posizione da tutta la gente che ha invaso, come era prevedibile, il posto che ci è stato, tra virgolette, riservato oggi per lavorare qui a Monte Carlo Riprendiamo i contatti con la telecronica